L'indifferenza ci rende ciechi, sordi e muti. Pur in una situazione di crisi sociale ed economica, non dobbiamo spaventarci o credere di essere impotenti, ma dobbiamo rispondere al grido dei poveri e di quanti hanno perso il lavoro e la dignità. È l'esortazione contenuta nel videomessaggio che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti al IV Festival della Dottrina Sociale della Chiesa sul tema Oltre i luoghi dentro il tempo. Il Pontefice ha invitato tutti a non rimanere chiusi in se stessi, ma a lasciare i luoghi sicuri per prendere l'iniziativa, soprattutto in ambito economico, dove tutto viene omologato, e rispondere così alle esigenze reali. Occorre liberare i talenti, ha insistito Papa Bergoglio, investire nei giovani, superando le forme di assistenzialismo e riconoscendo che l'amore è la vera forza del cambiamento. Prendere l'iniziativa in questi ambiti significa avere il coraggio di non lasciarsi imprigionare dal denaro e dai risultati a breve termine diventandone schiavi. Occorre un modo nuovo di vedere le cose. Vi faccio un esempio. Oggi si dice che tante cose non si possono fare perché manca il denaro. Eppure il denaro c'è sempre per fare alcune cose e manca per farne altre. Ad esempio, il denaro per acquistare armi si trova. Per fare le guerre per operazioni finanziarie senza scrupoli si trova. Di questo solitamente si tacce. Si sottolineano molto i soldi che mancano per creare lavoro, per investire in conoscenza, nei talenti, per progettare un nuovo welfare, per salvaguardare l'ambiente. Il vero problema non sono i soldi, ma le persone. Non possiamo chiedere ai soldi quello che solo le persone possono fare o creare. I soldi da soli non creano sviluppo. Per creare sviluppo occorrono persone che hanno il coraggio di prendere l'iniziativa. Per creare sviluppo occorrono persone